No all'alleanza con qualsiasi partito esso sia. Questo è il tenore degli oltre 100 interventi durante l'assemblea del Movimento 5 Stelle che si è svolta ieri all'Oterra Madanapoli parlando delle prossime elezioni regionali in Campania. Oltre il 90% degli attivisti e contrario all'intesa, gli occhi sono puntati sul presidente della Camera Roberto Fico, uno dei protagonisti del dialogo con il centrosinistra. Resta seduto per oltre 6 ore e poi tiene il suo intervento per ultimo. Si è detto che siamo contro il sistema, è vero nel senso che vogliamo cambiarlo ma siamo anche parte delle istituzioni. Io, dice Fico, sono la terza carica dello Stato e il Movimento parteciperà alle nomine a partire dalla RAI. Possiamo decidere di dimetterci tutti e di stare all'opposizione ma sono convinto che la fotografia della campagna giugno non sarà diversa da quella di adesso. Al banco a gestire gli interventi la capogruppo regionale Valeria Cerambino, il deputato Salvatore Micillo e il parlamentare Luigi Jovino. Tra gli interventi anche quello del prossimo candidato alle suppletive per il Movimento 5 Stelle Luigi Napolitano. Ascoltiamolo. Il Movimento 5 Stelle secondo il nostro punto di vista è forte a Napoli, sta portando una campagna elettorale come alla prima maniera, andando nelle case dei cittadini, tra la gente e diciamo ritornando ad ascoltare le istanze delle persone per strada. A tenere banco sono comunque le prossime elezioni regionali e Valeria Cerambino la nostra naturale candidata. Le parole di Luigi Cirillo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. C'è lei che ha convocato tra i quattro la convention all'hotel Ramada e che in questi mesi si sta opponendo con tutte le forze all'alleanza con il PD. Se il PD sta aprendo al Movimento 5 Stelle perché teme di perdere e quindi l'obiettivo è quello di una vittoria a ogni costo dove ci si divide le poltrone, questo non è il nostro obiettivo. Se invece parliamo di un progetto di futuro nuovo per questa terra, un futuro che questa terra si vede negato da 30 anni, in campagna si muore 4 anni di meno che nel resto d'Italia. Davanti a questo io sento un senso di responsabilità fortissimo e vorrei lavorare per cambiare le cose. Nei giorni scorsi si affico che Spadafora hanno provato a sancire un'intesa con il centro-sinistra. Il dialogo è tuttora in corso a patto, dicono in molti, che non faccia parte dei giochi Vincenzo De Luca. Uno scenario che potrebbe aprire ad una candidatura condivisa come ad esempio quella governatore dell'attuale Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, anche se la base del Movimento non vuole accordi. Siglato un accordo tra Regione Campania, Croce Rossa Italiana e Ufficio Scolastico Regionale che consentirà ai diplomati e agli infermieri e alle infermiere volontarie di frequentare un percorso integrativo semplice e meno dispendioso rispetto al passato per acquisire la qualifica di operatore sociosanitario. Una decisione che consentirà una più veloce immissione nel mondo del lavoro per gli studenti che seguono questi istituti preposti in un ambito essenziale per la tutela dei cittadini. Ascoltiamo l'assessore alla formazione della Regione Campania, Chiara Marciani. Credo che sia una buona prassi mettere insieme con un tavolo di lavoro efficace il mondo della scuola, dell'istruzione, quello appunto dei volontari e la formazione professionale per fare in modo che ci sia una connessione tra quelli che sono stati già i percorsi formativi fatti appunto durante il percorso scolastico, ad esempio nel percorso del volontariato attraverso anche una certificazione delle competenze e fare in modo che quello che è stato appreso possa essere poi immediatamente spendibile quindi anche con risparmio economico e quindi essere poi a servizio del mondo del lavoro ci auguriamo nella nostra Regione. Ascoltiamo la direttrice dell'ufficio scolastico regionale, Luisa Franzese. Dare corso e vita ad un indirizzo che fino a ieri, fino a oggi non aveva nessun valore perché i ragazzi avrebbero dovuto frequentare un altro anno per avere un titolo spendibile. L'incidenza di internet nella sfera relazionale e sessuale, le implicazioni del web nella creazione e nel disfacimento dei rapporti e l'influenza della facile fruizione di immagini ad alto contenuto erotico nell'attività e nelle disfunzioni sessuali soprattutto tra le giovani generazioni. Se ne è discusso al convegno presso l'Aula Magna della Multicenter School di Pozzuoli nel corso del Focus L'amore nell'era del web, implicazioni relazionali, sessuali e di comunicazione nella coppia. Tra i relatori Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, Comitato regionale per la comunicazione, molto impegnato nella prevenzione rivolta ai minori dei problemi di internet quali il cyberbullismo. ascoltiamo Francesco Mangiapia, urologo dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli. Si osserva infatti un'alterazione dei meccanismi delle velocità di relazione rispetto a qualche anno fa e come così velocemente si stavano delle relazioni, così altrettanto velocemente queste relazioni molto spesso si spengono. Ovviamente questo incide dal punto di vista proprio sulla psiche umana e determina delle alterazioni non solo nel modo di stringere delle relazioni ma anche molto spesso nel modo di comunicare. È cambiato molto rispetto agli anni novanti il modo in cui scriviamo, il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e il continuo accesso a internet determina anche un'incidenza sulla sfera sessuale proprio perché con l'accesso a pagine web, ad alto contenuto, ad antimpatto sessuale si creano dei falsi media, dei fake news, soprattutto tra i giovani che poi possono vivere in maniera, tra virgolette, disturbata la loro sessualità. Suo padre faceva parte delle milizie talebane di Etnia Pashtun e fu ucciso in guerra. Sua madre, di Etnia Azara, onde non farlo unire ai talebani che lo reclamavano all'età di dieci anni, lo fece scappare in Pakistan, da dove fu poi rimandato in Afghanistan. Masiedda Snain ha trovato la forza per fuggire in Europa. Giunto in Italia a tredici anni nei pressi di Torrecuso, provincia di Benevento, viveva di stenti ma un uomo, Carmine Calabrese, lo ospitò per una notte rifocillandolo e lo affidò poi alle cure della Caritas. Oggi Sied è un uomo adulto e laureato e la sua storia è stata raccontata al Consiglio regionale della Campania. Mi sono laureato, per me è stata una giornata emozionante perché nella vita avevo pensato di tutto ma tranne che un giorno laurearmi, il futuro è quello di impegnarmi, di alzare la voce per le persone escluse, i rifugiati richiedenti asilo, soprattutto i rifugiati che sono ancora in viaggio, che soffrono ancora in giro perché purtroppo con gli anni passati il numero delle persone sfollate, le persone che scappano è aumentato proprio dovuto ai diversi conflitti che in qualche modo anche dipende da noi che noi con il nostro gesto in qualche modo possiamo aiutare quelle persone. Per me per quello che riguarda la gente normale ha un cuore grande, insomma tante persone sono ancora disposte, se si fidano di una persona che cerca aiuto, di una persona che cerca un rifugio, ci sono sempre le persone che sono disposte, però non mi piace, non sono d'accordo, politicamente ci sono dei partiti, ci sono dei politici che instrumentalizzano la questione, che ci vogliono far vedere come una minaccia e invece se noi rifugiati avessimo la possibilità di parlare in prima persona, di esprimere la nostra attività, il nostro impegno che facciamo quotidianamente nella società di accoglienza in Italia, le cose cambiano e la gente vede che veramente questi non sono delinquenti, non sono una minaccia per noi, ma una risorsa. Per questo motivo ho sempre cercato di farmi sentire, di raccontare la mia storia, che non sono un peso per questo paese, ma posso essere una risorsa per la società che mi ha accolto e vorrei ricompensare il paese del mio rifiugio. Nasce il binomio Nemea Beauty Scinto, estetica e cucina di alta qualità insieme, L'opening del nuovo salotto del beauty, così come i festeggiamenti per il locale simbolo del sushi di qualità nel cuore della provincia di Napoli, è stato un successo sia di pubblico che di testimonianze. Migliaia di persone hanno potuto apprezzare gli spazi e i trattamenti che sono riservati ai clienti del centro. Ascoltiamo già da Punzo, club manager di Nemea Energy Village. Un'esperienza sportiva che prevede la possibilità di utilizzare la palestra, la piscina e altri servizi legati al fitness e adesso si completa anche con un meraviglioso spazio beauty. Ascoltiamo già da Punzo, club manager di Nemea Energy Village. Ascoltiamo Antonio Cataldo, amministratore della Violetta. Quando ho visto il progetto che mi è stato sottoposto del Nemea, ne sono rimasto entusiasta. Abbiamo sempre professato la sinergia tra fitness, alimentazione, estetica e benessere e qui il progetto è davvero reale, davvero fantastico, straordinario. Ai nostri microfoni Lorenzo Crea. È una nuova possibilità per le donne e non solo di potersi venire a curare qui, qui che è il luogo del wellness, qui che è il luogo del benessere, qui che è il luogo della bellezza, qui che è il luogo della gastronomia di qualità, perché con Scinto da tre anni raccontiamo anche di una pagina gastronomica importante che oggi compie tre anni. Testimonial d'eccezione, Massimiliano Rosolino. Andiamo sempre tutti di corsa e tutti dicono sempre che non abbiamo il tempo di ritagliarci un po' di tempo per noi. Per fortuna questo è un centro aperto quasi 20 ore al giorno, quindi insomma, scuse non ci sono. Dalle 6 di mattina insomma fino a mezzanotte puoi tenerti in forma, puoi mangiare, puoi stare con le persone che insomma vuoi bene. Grazie.